E' iniziata la scorsa settimana da Via Mazzini per poi proseguire verso il centro storico con le centralissime Sette Rue, passando per il quartiere Medaglia d'Oro e terminerà sabato 18 agosto dopo aver toccato per intero il quartiere Sette Frati, la pulizia meccanizzata delle strade di Barletta, predisposta dalla Barsa in concerto con l'amministrazione comunale. Il lavaggio di marciapie di strade con l'utilizzo di prodotti sanificanti può risultare omogeneo solo in assenza di automobili ai lati delle strade interessate. Per questo motivo sono stati affissi cartelli di divieto di sosta con l'indicazione di volta in volta del giorno e delle passe orarie che vanno dalle 4 alle 11 del mattino. Nonostante questo accorgimento alla partecipazione delle agenti di polizia municipale alle operazioni al fianco delle operatori Barsa e la minaccia di rimozione, nei primi giorni si sono riscontrati disagi dovuti proprio alla sosta di automobili ai lati delle strade, la quale naturalmente è andata a impedire la migliore riuscita della pulizia. Per le restanti giornate di martedì 14 agosto, giovedì 16 agosto, venerdì 17 agosto e sabato 18 agosto si auspica una maggiore collaborazione da parte dei cittadini, finalizzata al raggiungimento del migliore risultato e della completa pulizia delle strade interessate.